chiedo un grande favore personale dimmi 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 che è il mio direttore Ezio Luzzi tutto il calcio a minuto per minuto Ezio Luzzi a te la linea beh io farei proprio tutto completo prima di arrivare Ezio Luzzi bisogna partire da da gentili ascoltatori Bortoluzzi Bortoluzzi gentili ascoltatori Roberto Bortoluzzi che vi parla dallo studio centrale per i risultati dei primi tempi linea subito ad Ameri e e e e e e e si gentili ascoltatori siete collegati con il comunale di Torino l'Iventus conduce sull'internazionale per una linea a zero linea a Ciotti Ciotti non risponde passiamo la linea a Ferretti al San Paolo 0 a 0 tra Roma e Napoli linea subito a Provenzali qui a Genova nulla di cambiato tra Genova e Sampdoria attenzione scusa sono Luzzi 1 a 1 grigio e metallizzata in gombra l'uscita il proprietario è pregato subito di spostarla grazie lì nello studio bene riproviamo infine con Sandro Ciotti Ciotti ci senti? Siete collegati con la segreteria telefonica di Sandro Ciotti tra i noi in ottime condizioni spettatori non ne senti nessuno la casa è vuota grazie a tutti app guitars a tutti mozzi don boone membro non ne senti nessuno app cromesi